ciao a tutti oggi prepareremo i carciofi al forno iniziate col pulire i carciofi per bene lavarli e metterli un po' a gocciolare dopodiché li inseriamo nella pirofila fatto questo iniziamo a mettere un preparato che io ho fatto prima è un trito di aglio prezzemolo pangrattato e pepato formaggio pepato grattugiato lo metteremo all'interno dei carciofi dopo aver messo il composto nei carciofi mettiamo l'olio questo per renderli morbidi durante la cottura aggiungiamo l'acqua bene Grazie a tutti. Grazie a tutti.